Nessuna notizia positiva sul trend di occupazione nella provincia di Agrigento. Su una popolazione di 382.000 persone e una forza lavoro di 152.000 persone, nel 2014 gli occupati sono stati 113.000. Le persone in cerca di occupazione invece sono state 39.000, pari al 25,5% del totale. Un dato preoccupante se consideriamo il territorio a vocazione turistica in cui abitiamo. Nella media nel 2014 in genere in Italia si è toccato il calo degli occupati tra i 15 e 34 anni e tra i 35 e i 49 anni, rispettivamente da 148.000 unità e 162.000 unità, a fronte dell'incremento degli occupati con almeno 50 anni. Un netto calo nel mezzogiorno. In Sicilia il tasso di occupazione infatti è passato dal 39,3% del 2013 al 39% del 2014. La disoccupazione invece è salita dal 21% del 2013 al 22,2% del 2014. Nella provincia di Agrigento, su una popolazione di 382.000 persone e una forza lavoro di 152.000, nel 2014 gli occupati sono stati ben 113.000. Le persone in cerca di occupazione invece sono state 39.000, pari al 25,5% del totale. Alla nuova discesa dell'occupazione a tempo pieno si associa anche l'ulteriore incremento di quella a tempo parziale. L'incidenza di quanti svolgono part-time involontario sale dal 61,3% del 2013 al 63,6% del 2014. Nella media nel 2014 continua la crescita della disoccupazione, con un aumento che interessa entrambe le componenti di genere e tutte le ripartizioni geografiche.